Sì, è una grande pressione che ha visto soprattutto perché la sua intenzione può favorire la salute, tante volte le persone, la salute di noi uomini, perché si è un'unica di attenzione, perché si è liberale dall'amore di mondo e oggi, così da questa mamma prego e dopo la Santa Messa, non ci fermino lì e per scopare quelle loro lezioni e passagliate. E poi, ovviamente, i santi rischi che riconosciamo i nostri peccati. Amm. Signore, Tu sei la vita, che divinico inrai fattori, amm. Signore, prego. Signore, prego. Signore, prego. Signore, Tu sei la vita, che divinico in noi, come cuore, amm. Signore, prego. Dio, se mindi mi dico e il mio nome è, che non è niente della��어 me. Amm. Prego. E salutisci il Signore d'Alvogno, riunita nel ricordo del Marte di questo viaggio, e dona le pace e salute nella vita presente, perché giunga la fuorica dell'Italia per il nostro Signore di Cristo, per Dio e per Dio, e vivere in attività del Natale di questo Signore, per Dio e 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 per Dio. E il Signore, che ci accetta, vogliamo con la separanza della forza che ci sta dando, tenendo il suo conto di Gesù, con l'ultima religione antichica e alla porta a compagno. Il Signore d'Alvogno, riunita nel nostro Signore di Cristo, per Dio e 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 per Dio. Il Signore d'Alvogno, riunita nel nostro Signore di Cristo, per Dio e 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 per Dio, I poveri mangiati, santo e santo, santo. Gloderanno il Signore quanti lo c'è, il vostro cuore e il Dio a per sempre. Ricorderanno il Signore, il Dio di Giacomo. Ricorderanno e ricorderanno il Signore di tutti i costitini della terra. Davanti al testo seranno tutte le pavire dei poveri. Ricorderanno il Signore, il Dio di Giacomo. All'un solo si rosseranno quanti loro lo soffertano. Davanti all'un si riempiranno quanti le scende non è l'uomo. E non diranno la sua scende non è l'uomo. Lo sentiranno la mia scendenza. Si parleranno il Signore alla generazione di i miei. Annunceranno la sua scuola al popolo che lascerà il Dio. Ecco l'uomo del Signore. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia. Si parla di Signore, alleluia, Alleluia, Alleluia. Grazie a tutti. 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 Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti.